messaggio della regina della pace a maria di međugorje 25 novembre 2021 cari figli sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e di amore in questo mondo dove figliuoli dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera amore ed espressione del paradiso qui sulla terra i vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in dio affinché figliuoli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà per questo sono con voi perché lui l'altissimo mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti